Nel weekend scorso l'US Agropoli batte la Salernum Baronissi e vola in testa alla classifica. Il primo squillo della gara arriva al primo minuto con una incursione in area di rigore da parte di Yeboama. Il sinistro del numero 10 si perde sul fondo. Cinque minuti più tardi Margiotta ci prova di testa ma la conclusione è alta. Alla mezz'ora altro tentativo dell'US Agropoli dopo azione manovrata ma la conclusione di Alba è debole e non impensierisce. Tesoniero non ci sono altre occasioni e si va all'intervallo con il punteggio ancora a reti bianche. Nella ripresa i Delfini partono forte e potrebbero trovare già il vantaggio dopo sei minuti ma Margiotta colpisce la traversa dopo una grande elevazione in area di rigore. Cinque giri di lancette dopo il vantaggio su punizione magistrale di Natiello che spedisce la palla sotto l'incrocio dei pali. Un minuto prima del quarto d'ora la palla gol più importante per gli ospiti ma Marrocco non trova la porta da buona posizione. Poco prima della mezz'ora il raddoppio. Costantino si procura un calcio di rigore che Margiotta sigla con gran classe spiazzando l'estremo difensore ospite. Dopo il raddoppio la gara scende di intensità e non arrivano altre occasioni di nota. I